Organigramma definito, rosa da costruire e obiettivi a lungo termine. Parte da questi presupposti la stagione 2011-2012 dell'US Scalea, la stagione del centenario. Carmine Reda è il nuovo presidente, mentre per le cariche di vice sono stati resignati gli ex di Ascalos e Talao, Paolo Pozzi e Gino Oliva. Poi Silvio Longobucco e Antonio De Filippo che ricopriranno le cariche di direttore sportivo e direttore generale. Nell'anno del centenario è stata anche istituita la figura del responsabile dei festeggiamenti che sarà Enzo Greco, uno dei più appassionati tifosi della società biancostellata. La fusione delle tre società ha trovato come ovvio il favore del sindaco Pasquale Basile che si attende grande impegno da parte di tutti per festeggiare al meglio il centenario. Come rappresentante della città mi aspetto soprattutto, oltre a quello che è la potenzialità sportiva di questa squadra, che è responsabilità di altri, mi aspetto soprattutto invece a un forte impatto sociale, la capacità di valorizzare ancora di più i ragazzi, i pulcini, i bambini, i giovani di Scalea, di ricreare un ambiente che possa far nascere quei campioni che oggi sono stati e sono vicini all'OS Scalea 1912 e che quindi contribuisca seriamente a un'inversione di mentalità proprio nel segno dell'unione piuttosto che della divisione. Io ho sempre dichiarato anche lei, sono moderatamente ottimista, certi momenti di dubbio ci sono stati, però alla fine ha trionfato quella parte più sana, quella parte dello spirito sportivo che mal avrebbe digerito non vedere il centenario qui a Scalea.